Salve a tutti, oggi vorrei recensire una cosa diversa, una cosa da svogliato sessuale, diciamo così. Una coil. E' precisamente la Ultranano Alien di Bray Kills Alien Lab. Una coil che si attesterebbe sugli 0,75 ohm, filo resistivo complesso made in Italy, da Bray Kills Alien Lab. Comunque, ci ho azzeccato questa coil, va bene? Ora devo fare tutto con una mano, mi viene malissimo. Ma perché non uso il supporto che mi hanno regalato, porca nazione, maledetta l'istituzione, i governi. Scusate, un po' di sforzo per togliere il cap. Ecco, la coil è questa, questa qua. Ho montato sullo Strikers e ci ho messo il mio liquido, il Sebastian di Vaping Gentleman Club. Allora, molto brevemente, sto rimettendo il cap. Devo dire che... Ma che bello il calendario della carne di cavallo, va? Devo dire che... Queste coil funzionano davvero bene. Aroma... Devo dire davvero soddisfacente. Il Sebastian, con questa cacchio di coil nano, nano alien, come si chiama, si sente veramente bene. E... Non ho misurato la resistenza, ma ci credo poco che siano 0,75 ohm. Secondo me va più sotto. Però vabbè, per la pico va benissimo. E questo, quindi... Dico la verità. Sì? Sì. Ma che minchia vi comprate queste coil già fatte? Le coil tutte intrecciate, nano alien, 5 fili di 5-7 spire di quello su 8 spire dell'altro. Ma fatevele voi le coil, la Gnusi. Ma esagerato? No. La Gnusi.